Torna Acquaspid anche per l'estate 2018. L'appuntamento con gli scivoli ad acqua più amati d'Europa, 11 e 12 agosto, sarà a Stio Cilento. Con tale evento si porta nei centri cittadini uno scivolo ad acqua lungo 50 metri e largo 3,5 metri per combattere il caldo in modo divertente e godersi l'estate in un modo decisamente fuori dal comune. Acquaspid è l'appuntamento della vostra estate. Non perdete l'occasione di divertirvi in compagnia dei vostri amici in una discesa che è una scarica di adrenalina. Divertirsi con acquaspid è facile, basta averne voglia, mettersi in fila e lanciarsi senza paura nella discesa. Il divertimento è assicurato, è un'attrazione aperta a tutti, non c'è il limite di età per salire sullo scivolo più divertente d'Italia. In contemporanea si svolgerà il primo torneo di calcio saponato. Il calcio saponato, calcetto su sapone, è una variante del gioco del calcetto che si gioca su un materasso gonfiabile di gomma dalle dimensioni minime di 9 metri per 6. L'intera area di gioco è cosparsa di acqua e sapone, particolare che rende instabile la posizione dei giocatori. La difficoltà e la bellezza del gioco consistono proprio nel correre e mantenere l'equilibrio sul fondo scivoloso. Per informazioni contattare la Proloco di Stio Cilento tramite la pagina Facebook.